Assessore, passi importanti si stanno facendo per quanto riguarda l'emergenza abitativa? Sì, il secondo gangliere che viene aperto, quindi sicuramente un segnale importante, perché aprire un gangliere in questi tempi in cui la burocrazia rallenta le procedure è un segnale positivo. Come dicevo, è il secondo dopo quello di collaterrato di quest'estate, quindi voglio ringraziare il Presidente e la Dottoressa Maria Ceci che veramente ha dato un'accelerazione alle procedure per far rientrare tanta gente nelle case. Tra l'altro, in queste settimane stiamo anche consegnando, domenica scorsa a Colledara, gli immobili invenduti. Anche questo è un segnale importante che vogliamo dare per permettere alle famiglie di rientrare in un nucleo immobiliare che sicuramente è un segnale rilevante, come dicevo prima, e soprattutto in un momento difficile, quello dell'emergenza, quindi permettiamo a tante persone di riabbracciare con i propri familiari un'unità immobiliare. Poi si dovrebbe anche accelerare, mi permetta, sulla parte burocratica, la richiesta da parte della popolazione di avere una casa. Sì, sicuramente lì sono mancate un po' di istanze, però ultimamente, come riferito anche da Rivera, c'è stato un aumento del numero delle pratiche e sicuramente bisogna dare anche lì una forma di accelerazione alle procedure. Però ritengo che la cosa più importante è iniziare a vedere i primi ganchieri come quello di oggi perché sicuramente diamo un segnale e questa è la dimostrazione che la sinergia tra Endi, tra Regione, Ater e tutto il resto comincia a portare dei risultati sicuramente efficienti.